Buon di musicisti, io sono Matteo Nori e questo è il quarto episodio della mia esperienza nel mondo della musica. Allora, in questa serie io vado a trattare gli aspetti che caratterizzano di più la vita di un musicista e il percorso musicale in ordine logico e cronologico. Se vi siete persi qualcosa andatevi a recuperare i precedenti, non starò a fare una presentazione in quanto la trovate nel primo, quindi per sapere chi sono, cosa faccio a livello musicale, di cosa un po' mi occupo eccetera, andate a vedere il primo episodio di questa serie. Adesso ci dedichiamo totalmente all'argomento del video. Nel momento in cui abbiamo la nostra band, sappiamo suonare, ci siamo amalgamati, c'è un po' quella chimica necessaria a far funzionare il tutto, arriva il momento in cui ci si approccia a suonare dal vivo. Prima ancora che registrare, di solito le prime esperienze sono appunto su un palco. Tralasciando un po' il periodo in cui sto registrando questo video, che insomma siamo a febbraio 2022 e la situazione covid non è ancora praticamente risolta, Ma, tralasciando questo aspetto, parliamo più in generale, un musicista aspira prima di tutto a salire su un palco. Ma, prima di andare a trattare cosa succede effettivamente lì sopra, dobbiamo fare un passo indietro. Dobbiamo pensare a come arriviamo a suonare. Nessuno regala nulla, quindi non vi piovono dal cielo le proposte, soprattutto se siete principianti, avete appena cominciato. Dovete andare voi, come dei predatori, a cercare la roba in giro. Questa è una cosa fondamentale e ci vuole anche un pochino di, tra virgolette, arte nel farlo. Quindi cercherò di darvi qualche consiglio su come relazionarvi con i gestori dei locali, gestori dei locali inteso anche come organizzatori di eventi vari, e come fare per riuscire a ottenere magari qualche data in più. Partiamo dall'opzione più frequente. Ci sono dei locali nella vostra zona, che sia città, che sia un po' più in provincia, comunque, dove magari sapete che fanno musica dal vivo, allora la prima cosa che dite è, ok, proviamo a sentire da quelli. Allora, i gestori dei locali dovete rendervi conto, premisse del fatto, cioè prima lo capite meglio è, che sono fondamentalmente dei piccoli imprenditori. Cioè, nel senso, loro devono far funzionare un'attività, quell'attività deve portargli del lucro, altrimenti nessuno farebbe nulla. Cioè, chiaramente, quella è la base di tutto, no? Questo perché è importante per un musicista? Dice, che chi me ne frega me di cosa pensano loro? No, è importantissimo, perché loro vi tratteranno come, se siete agli inizi delle persone che tentano di strappargli una serata, magari anche di bere e mangiare gratis, vi vedranno un po' così. Senza però dargli nessun tornaconto, perché se avete appena iniziato non gli portate un pubblico che gli dà la consumazione del locale o gli paga l'ingresso. Quindi vi vedranno un po' così. E quindi il loro scopo, alla fine, è giusto così, insomma, l'attività è quella di portare persone a consumare nel locale o pagare un ingresso. Quindi, morale, sappiate che nessun gestore organizzatore, quasi nessuno, se no nei rari casi, o magari un po' borderline, fa quello che fa per amore della musica, a meno che non siano eventi no profit o quelle cose organizzate in maniera totalmente free, ma è un altro discorso. La musica è un business, ok? Quindi questa è la prima cosa che dovete capire. Come ci si approccia? Allora, con un gestore ci si può approcciare, chiaramente vendendosi nella maniera corretta, soprattutto a livello social, perché prima di andare da un gestore, organizzatore, chiamatelo come volete, l'ideale sarebbe avere prodotto qualcosa di proprio. Non intendo aver scritto brani propri, intendo aver prodotto magari un videino, un qualcosa, ma anche solo una roba al volo per fargli vedere chi siete. Se andate là e non avete neanche la pagina Instagram, non avete nulla assolutamente zero, avete scarse probabilità, meno che non abbiate delle conoscenze per cui magari vi danno una mano per altri motivi. È fondamentale che voi abbiate la vostra presenza, quindi cominciate a farvi una piccola presenza online passo passo e quello che vi consiglio è avere qualche foto vostra fatta nella maniera più professionale possibile. Stessa cosa vale per un videino. Chiaramente a questo livello molti di voi non avranno di mistichezza con le registrazioni perché vi potrei anche dire che l'ideale sarebbe avere un demo ma non avendo magari esperienza con le registrazioni e dovendo proprio ancora cominciare del tutto con esse tralasciamo questo dettaglio. Prendete che per vendervi bene a un organizzatore, a un gestore dovete avere un videino, delle foto, la pagina Instagram, la pagina Facebook gli fate vedere guarda io faccio questo io sono Tizio Caio faccio questa cosa qua gli fate proprio vedere la performance cercate di buntare su questo non vi sto dicendo niente di trascendentale ma perché non c'è il trucco per fare queste cose qua cioè non vi posso dire ah usate questa frase perché li convince tutti usate questa cosa non è vero perché ci sono gestori che io quando sono partito ho convinto con tre frasi gestori che non mi hanno dato retta neanche dopo due volte che ci provavo e con sforzi in mani quindi non c'è la regola per queste cose ci sono delle cose da sottolineare migliori di altre però la cosa principale è dargli un prodotto prima di andare in giro a sparpagliarevi tra locali e proposte fatevi un attimo del materiale e intanto è un buonissimo punto di partenza con questo già partite avvantaggiate rispetto a tanti che arrivano lì tipo ah io sono sono il cugino di tizio Gaio che nessuno l'ha mai visto e quindi il gestore riguarda e fa ah ok vediamo e poi non vi caga più non vi chiamerà mai più successo? sai quante volte mi è successo? troppe alla fine il succo è quello di dargli un motivo per chiamarvi quindi qual è l'altra cosa? cercare di trovare i locali che facciano musica o gli eventi che organizzano musica in cui voi siete compatibili cioè non andate nel festival nella sagra tal dei tali dove sapete che c'è un pubblico medio che vuole la canzone leggerina la canzone orecchiabile a suonare del metal ok? cioè queste sono cose che per tanti sono scontate però quando i musicisti partono dicono ah andiamo a suonare ovunque no aspetta cioè nel senso va bene vai a suonare ovunque nel senso prendi tutte le opportunità che hai perché all'inizio fa tutto brodo e tutta esperienza fa tutto coso ma ma che sia coerente quindi discorso che ti ho fatto adesso che sia coerente con con testo col genere tipo di pubblico ok? se il locale è frequentato da il pubblico X tu non ci metti la musica Y questo è banale ma non così scontato per tutti allora qualcuno a questo punto si potrebbe fare la classica domanda di dire va bene mi hai spiegato un attimo quali sono le due o tre cose a cui devo stare attento poi ogni persona è diversa l'organizzatore tizio caio con cui io mi rapporto è un essere umano quindi essendo un essere umano ha reazioni gusti e atteggiamenti differenti per questo vi dico che non c'è una regola d'oro unica uno gli dice ma come faccio però io a trovare dove sono i locali dove si può suonare perché magari non li conosci magari non ci hai mai fatto caso ci sei sempre passato davanti ma non hai idea che lì dentro si faccia musica dal vivo oppure non sai quando chi e come organizzano gli eventi a livello comunale a livello beh lì è una cosa molto banale apri google cerchi nella tua città barra tua regione barra tua zona tua provincia quello che è tutti gli eventi che puoi tutti gli eventi che puoi significa che se vuoi suonare tu proprio tutti ci devi provare prendendo tutti gli eventi che sono coerenti con ciò che fai è indispensabile che tu all'inizio faccia più gavetta possibile più suoni meglio è all'inizio vi dico non vale il criterio del vado a suonare per niente e ottengo soltanto il palco all'inizio bisogna ottenere soltanto il palco perché è fisiologico che quando uno comincia nessuno ti dia credibilità e te la devi guardagnare te la devi costruire arriviamo all'ultimo punto poi chiudo non vi aspettate assolutamente di chiedere un cachet cioè vi assicuro che quando state iniziando siete ai vostri primi concerti e nessuno sa appena che suonate non vi adattate a chiedere dei soldi a un gestore a un organizzatore come cachet perché questo qui come vi ha visto si dimentica di voi perché già ciò succede se non gli chiedete niente quindi mai fare l'errore perché qualcuno magari sentendosi un pochino orgoglioso un pochino altezzoso insomma potrebbe fare l'errore di dire eh ma sai ma perché io devo suonare gratis che per tizio caio sempronio non suono gratis perché tizio caio sempronio hanno già la loro esperienza il loro pubblico il loro bagaglio e tu ancora no quindi è giusto che all'inizio tu faccia un tu scenda di un gradino il gradino che si chiama umiltà e rimanga un attimo coi piedi per terra non lo dico come cosa cattiva per dire no voi non dovete farvi valere no ma all'inizio è giusto così all'inizio è giusto che non ci sia questa pretesa quindi ricapitolando pensate che il gestore è come un imprenditore deve avere un resoconto scegliete tanti eventi suonate il più possibile ma evitate quelli in cui siete totalmente fuori luogo mi è successo abbiamo fatto scappare dei bambini a volte meglio non dilungarsi terzo non pensate di essere privilegiati di musicisti come voi ce ne sono tantissimi altri in giro magari voi avete davvero qualcosa che vale ma all'inizio il gestore non gliene può fregare niente è totalmente inutile e all'inizio bisogna solo fare gavetta 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 se vi è piaciuto questo video se l'avete trovato interessante lasciatemi un like e se vi interessa sia questa serie che magari altre serie come il backstage o vedere le mie cover continuare a stare aggiornati iscrivetevi attivate la campanella così vi arrivano pure le notifiche poi se volete darmi un feedback ulteriore mi lasciate anche un commento e se proprio il video vi ha fatto cagare mettetemi un dislike così mi date comunque il vostro parere noi ci vediamo alla prossima